Eccolo, after match con Garzia Amadori, abbiamo appena sentito Zecchi che ha detto che appunto temeva alcuni colpi di celotto e soprattutto temeva la rivincita e questa rivincita c'è stata? Beh, è andata come comunque noi pensavamo, abbiamo portato a casa la vittoria nettamente, sono state vinte tutte e due le riprese e quindi non c'è ombra di dubbio su questo. Zecchi, devo dire che è un ragazzo molto intelligente perché fa un gioco molto molto intelligente e quindi è stato bravo. A parte nostra lo sapevamo questo e quindi abbiamo cercato di fare un gioco molto di ostruzione, quindi sapendo bene che lui è un ragazzo intelligente che può sfruttare questo suo favore, perché noi abbiamo cercato di fare un gioco ancora più intelligente e quindi a parte il gioco di parole siamo stati molto attenti, molto senza risparmiarci sui fronzoli. Abbiamo fatto una cosa molto semplice, non spettacolare, quindi piuttosto tecnica come cosa, cercando di sfruttare gli errori dell'avversario. Ok, allora ci vediamo nei prossimi giorni per i commenti a freddo dopo questi a caldo. Va benissimo, a presto, a presto, apri apri, alla festa mi toccherà premiarlo come Master of the Year, va quest'anno.